Sei titoli e grandi nomi per la nuova stagione teatrale di Bordighera. Sei titoli importanti che cercano di ripercorrere il successo del 2018-2019, una stagione che ha naturalmente un'ambizione, quella di fare ancora meglio rispetto a quella precedente, anche perché c'è stato un investimento più importante dal punto di vista finanziario e dall'altra parte dobbiamo dire abbiamo contenuto i prezzi di vendita al pubblico dei biglietti con un abbonamento che consente praticamente al prezzo di quattro pieste e tralli poter assistere a tutte e sei le pièce che vengono proposte dall'amministrazione. Quindi devo dire che siamo davvero contenti, ringraziamo l'associazione Nido di Ragno, Claudio Claudiano e anche gli uffici comunali che si sono prodigati per raggiungere questo obiettivo in tempi rapidi per avere già quest'anno al 7 di dicembre la prima pièce in programma.